Signor Sindaco, Presidente, signor Presidente, io mi sono chiuso di richieste da un'acqua di consiglieri, prestigiavo il nuovo obiettivo di un'unità di un'unità. Se non ci sono un'altra interventi, peggio votazione è più dio, peggio votazione è più dio, questo è stato formulato dal consigliere Romantinovio, il consigliere Puccio, il consigliere Del Prego, il consigliere Argelo Justo, per la bonifica dell'operazione. Allora, metto un'operazione che dico chiesa, se dico ancora, chi si alza non la propria divina. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, non è il signor 10 e le 11 declaratiche che si può votare. Allora, la proposta di invio viene bocciata a maggioranza con 12 voti contrari e 11 favorevoli. prosegue il dibattito sempre tuttavo in una cosa di due giorni. Grazie. 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 Grazie.